Bentornati ancora una volta. Oggi andremo a vedere come esportare da Blender oggetti con più di un'animazione. Quindi come prima cosa andremo a creare il nostro nuovo oggetto da animare e poi andremo alla Timeline, che dovrà essere cambiata di modalità di operazione da Timeline a DopeSheet, che appunto permetterà di visualizzare più animazioni contemporanee. La modalità di operazione del DopeSheet poi dovrà essere portata ad Action Editor. In questo modo, tramite questo pulsante, potremo creare una nuova azione. Quindi, una volta creata un'animazione, un'azione è rinominata per esempio a Movimento 1, la salveremo in automatico in modo che venga esportata anche se non è collegata a un oggetto, e poi con lo stesso metodo del video precedente, con la nostra Timeline, del DopeSheet, andremo ad inserire dei keyframe. Quindi, un keyframe iniziale per appunto il primo salvataggio di posizione, rotazione e scala dell'oggetto, e poi, una volta spostati all'ultimo frame dell'animazione e fatte delle rotazioni arbitrarie, andremo ad inserire un altro keyframe. In questo modo avremo la nostra prima animazione, che sarà appunto questo semplice spostamento, e poi, in seguito, andremo a creare una nuova azione, chiamata Movimento 2, per esempio. Ora, questa animazione, una volta creata, si porta dietro gli stessi DopeSheet della precedente, quindi dovremo selezionare Movimento 2 e ripetere lo stesso procedimento. Quindi inseriamo un keyframe iniziale, ci spostiamo per esempio a metà e facciamo un spostamento del genere, inseriamo un altro keyframe, andiamo alla fine, dopo un altro spostamento e un'altra rotazione, inseriremo il keyframe finale. Così avremo questa animazione e quest'altra animazione più semplice. Ora, una volta premuta questa spunta per salvarla in automatico, potremo andare ad esportare il nostro oggetto. Quindi, sempre in formato fbx, e gli daremo il nome di cuboanimazionemultipla. L'importante nelle modalità di esportazione del file è che sia una selezionata questa spunta AllAction, che permette appunto di esportare ogni animazione come un file separato, invece che come un'animazione globale. Una volta fatto export, come per il video precedente, potremo andare su Unity, in un progetto, adesso questo è un progetto di default, faremo l'import del nostro asset, quindi cuboanimazionemultipla, e allo stesso modo della volta precedente vedremo che avremo importato il cubo, un'animazione chiamata movimento1 e un'animazione chiamata movimento2, che una volta portati all'interno della scena, come un prefab, sotto un gameobject empty, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e imparentati uno con l'altro, potremo appunto andare ad aggiungere il nostro animator, potremo andare ad aggiungere il nostro animator, alla mesh, creeremo il nostro animator controller, cubo, lo collegheremo alla sezione controller qui in basso, e potremo portare le nostre due animazioni all'interno del nostro animator controller, semplicemente trascinandole, e creando poi le relazioni e le transizioni tra uno stato e il successivo. Una volta fatto questo, il procedimento sarà esattamente uguale a quello mostrato nel primo video per la creazione dell'animazione in Unity, in cui bisognerà solo settare dei parametri, e eventualmente appunto gestire le relazioni e le transizioni tra uno stato e l'altro. Quindi adesso premendo play, vedremo il nostro cubo che si sposterà lentamente in una direzione, ok, magari guardandolo dalla scena, e poi eseguirà la seconda animazione. Ovviamente la tempistica di tempo è dovuta al fatto che in Blender abbiamo utilizzato un'ampia lunghezza temporale, che dovrà essere ovviamente scalata a seconda delle necessità. Infine, nell'import, possiamo ancora vedere una sezione, che nel asset importato potremo vedere queste diverse opzioni. Quindi avremo modello, che ci darà delle impostazioni per l'import della scala e della mesh, rig per un'eventuale armatura, per animare l'oggetto, animazione, che ci permetterà di modificare ad esempio le clip, la durata, il tempo, da cui possiamo appunto anche gestire un eventuale loop tramite questa spunta, e poi i materiali. Comunque questo verrà approfondito in un video successivo. Questo è tutto, grazie per l'attenzione. Grazie.